A 40 anni dalla vittoria alle Olimpiadi di Sarajevo nella danza sul ghiaccio, la coppia di pattinatori britannici, formata da Jane Torville e Christopher Dean, torna nella città olimpica per celebrare l'anniversario della medaglia d'oro. Per loro, da allora il 14 febbraio, non è San Valentino ma il Bolero Day, brano che interpretato magistralmente sul ghiaccio li portò a vincere. Oggi è San Valentino, buon San Valentino a tutti ha detto il pattinatore, io e Jane diciamo sempre buon Bolero Day perché è il giorno in cui abbiamo vinto le Olimpiadi ed è grazie al Bolero e a quel numero che abbiamo goduto di questa longevità. Da allora abbiamo girato il mondo esibendoci con il Bolero e la gente veniva da noi e diceva, mi ricordo dov'ero quando ho visto il Bolero che avete ballato a Sarajevo. Saremo sempre legati al nostro pattinaggio a Sarajevo e siamo felici che Sarajevo faccia parte della nostra vita. È così bello essere tornati, ha aggiunto Jane, tutti sono stati così gentili con noi, sarebbe bello tornare tra altri dieci anni, speriamo di poterlo festeggiare, ma siamo felici di essere qui oggi proprio nel giorno in cui abbiamo vinto le Olimpiadi. I due di 66 anni, a un anno dal previsto ritiro dopo 50 anni su ghiaccio insieme, sono tornati in città anche per esibirsi davanti ai bambini del posto, molti dei quali hanno appena iniziato a pattinare.